Situazione davvero difficoltosa sulla A15 della Cisa tutto quest'oggi, a partire da questa mattina quando a causa di un'interruzione del traffico stradale sulla A1 tutti i mezzi che volevano andare verso Roma erano costretti a passare se volevano andare con l'autostrada attraverso la A15, unica autostrada rimasta aperta in quanto anche la A14 è chiusa a causa delle alluvioni. Sta di fatto che questo ha creato grossi problemi con addirittura l'esigenza di chiudere per un certo periodo questa mattina il nodo della A15 sulla A1 in direzione sud perché oramai la strada era completamente congestionata, un congestionamento aggravato ancora di più da un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 con il coinvolgimento di un tir e due autoveicoli, sei feriti soccorsi dal 118, una persona ricoverata al Maggiore di Parma, gli altri invece sono stati portati a vaio per degli accertamenti. Sta di fatto che la situazione non è migliorata fino attorno alle mezzogiorno di oggi quando sono stati iniziati a essere effettuati dei lavori per eliminare alcuni cantieri lungo la tratta autostradale, cantieri già preventivati, cantieri che era necessario portare avanti ma visto che oramai l'autocise era diventata ed è diventata la strada principale che collegava il nord e il sud Italia, la scelta è stata quella. Fino nel giro di pochi minuti la situazione è leggermente migliorata a causa del fatto che è stato eliminato il cantiere nella zona di Fornovo, le immagini che vedete sono infatti nella zona di Fornovo con un traffico completamente congestionato a Ramiola e a Fornovo e anche da Varano scendendo verso Ramiola. Sta di fatto che la situazione è stata impegnativa fino a quando poi tolto questo cantiere che si trova attorno a Fornovo un po' la situazione è tornata alla normalità, rimane comunque la chiusura della A1 per i mezzi sopra alle 7,5 tonnellate e quindi la maggior parte dei tir che andranno verso Roma, che da Roma saliranno verso nord fino a quando la situazione sulla A1 non verrà completamente sistemata, dovranno passare dall'autocisa. Questo rilancio è un tema importante per il nostro territorio, la necessità di creare un collegamento principale anche nella zona occidentale delle mie Romagna, tutto si fa per portare tutto su Bologna. Sta di fatto che questa situazione, sia l'alluvione di due settimane fa che quella dei giorni scorsi, che come questa frana fanno capire come sia necessario avere diversi snodi che vadano nord-sud, peraltro il nodo migliore per poter collegare Milano a Roma non passa da Bologna ma passa ovviamente da Fornovo, Borgotaro e dalla Valtaro, sempre se anche nella zona toscana si decidesse di completare un tratto di autostrada mancante, infatti il collegamento dalla Spezia verso Roma per un lungo tratto è in su strada normale. Un messaggio lanciato anche per la Pontremolese dell'ex ministro Orlando nei giorni scorsi all'interno di un convegno realizzato a Fornovo, la necessità di dare importanza anche a quest'altra zona di transito e di traffico, ricordando che a dispetto di quello che possano pensare gli ambientalisti il traffico e le vie di comunicazione principali portano vita e portano vivacità economiche e commerciali nei territori da essi attraversati, anche per questo la scelta è stata quella di centralizzare tutta Bologna, aeroporto, alte velocità, tutte le autostrade. Sarebbe quindi opportuno che questo meccanismo fosse effettivamente invertito ridando la giusta centralità a Parva e al Parmense, perché episodi come questi che sono capitati nel breve periodo di 15 giorni, per ben due volte l'Italia è stata bloccata in due e l'autocisa era l'unica strada che collegava, potrebbero capitare ancora.